Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, per chi non mi conoscesse io sono Francesca e oggi vi porto al DM insieme a me O meglio, andiamo a fare la spesa, ci sono andata soprattutto perché volevo andare a cercare l'Arcemento, il prodotto gel di Garnier che non ho trovato da nessuna parte qua a Genova, nel mio quartiere Quindi ho detto vabbè, prendiamo tutto e andiamo a cercarlo in centro, in questo nuovo punto vendita O meglio, è una catena che era già presente a Genova, sicuramente con un negozio, forse addirittura due o tre E io però non ci sono mai andata, quindi ho detto vabbè, andiamo, visto che ha aperto un nuovo punto vendita in Piazza Dante Ho detto ok, prendiamo e andiamo subito lì a cercare sia quel prodotto, ma in generale a guardare un po' di marchi nuovi Cosa avrei comprato, cosa no, soprattutto per i capelli ma anche tutto il resto, cioè facciamo giusto un po' di shopping insieme Dopo vi mostro cosa ho acquistato, perché bene sì, ho comprato qualcosa, quindi vi mostro che cosa ho comprato Spero di tenervi compagnia, fatemi sapere se è una tipologia di video che vi interessa E se vi interessa lo faccio anche per altri negozi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti Ok, abbiate pietà di me per questa ripresa veramente orribile, ma sto registrando con il cellulare E mi sto per mettere il cappello, mi sono fermata in tempo per farvi vedere questo gesto Ebbene sì, qua a Genova fa freddissimo, mi metterò anche un piumone gigantesco, un piumino gigantesco, un giaccone E vado al Diem, non sono mai andata al Diem, o Diem, non so come sia la pronuncia esatta È una catena tedesca, a quanto pare E a Genova in realtà ce n'era già uno, forse ben due, però hanno aperto questo nuovo punto, questo nuovo negozio in Piazza Dante Quindi oggi, lunedì 29 se non erro, novembre, sono prontissima ad andare a fare questa escursione A fare questa ricerca dell'ard cemento, ebbene sì, non l'ho ancora trovato Ieri raga, ho cercato ovunque nel mio quartiere l'ard cemento, il gel, perché volevo provarlo, volevo fare riceriti Ma non l'ho trovato da nessuna parte, quindi spero di trovarlo oggi al Diem Andiamo insieme Mi metto la borsa, il giaccone Metto le cuffiette, così ascolto un pochino di musica mentre sono sul bus E andiamo in centro Ed eccoci qua al negozio Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato Perché sembra tanto un video sponsorizzato di M Però volevo semplicemente fare shopping insieme a voi Questo negozio si sviluppa in due piani Il primo piano terra e il primo piano sopra E all'inizio, proprio dall'ingresso, c'è tutta la parte makeup e la parte degli stand al verde Brand che sinceramente non ho mai provato E come vedete c'è anche PH Bio Ci sono tanti brand biologici o comunque con principi attivi vegetali Un po' tipo Natura Sea Anche la vera è un brand molto da Natura Sea E poi c'è questo brand che si chiama Balea E' il brand della catena, del DM Ho letto che è un brand molto famoso in Germania e in Svizzera I prodotti vengono formulati lì, prodotti lì Un sacco e costano pochissimo Sono veramente tanti Ho visto, ma tanti prodotti Poi ho letto su internet che sono ben 400 i prodotti 4,50 Invece questi sono gli stand makeup Troviamo i classici, ma anche qualcosa di particolare Come ad esempio questo trend Che sinceramente non avevo mai visto da nessuna parte E come vedete ha un po' di tutto Ha sia smalti sia... In realtà... Sì, questi sono smalti Ok, all'inizio pensavo fossero qualcosa tipo makeup Per fare qualcosa di cremoso sul viso Tipo ombretto colorato, liquido Invece no, sono tutti smalti Poi abbiamo matite labbra Matita per gli occhi Correttore Un sacco di ombretti E poi, non so se notate C'è anche qualcosa che assomiglia tantissimo a Smashbox Quel primer arancion All'inizio ho detto Oh, ma c'è anche Smashbox Invece no Però il packaging ci assomiglia veramente tantissimo Dopo questo stand C'è un altro stand Sempre makeup Sempre matite Eyeliner Lucidalabbra Come notate C'è un po' di tutto anche qua E questo brand invece è sci Mai visto Cioè, mai visto prima Poi ci sono i classici Classici brand Tipo Venus Cleanians Garnier Classico Ci sono un sacco di struccanti garnier Sia micellari Sia bifase Cioè, veramente Qua è tutto lo stand L'Oreal E c'è anche lo stand Nivea Raga, io non mi ricordo Chi mi aveva consigliato Lo struccante Nivea Però non mi ricordo Se era uno struccante micellare Oppure se era il bifasico Ma qualcuno mi ha consigliato Questo struccante Nivea Comunque, continuiamo il giro E andiamo un pochino più fluidi Perché abbiamo avuto delle riprese Un po' più lente Questi, raga Ci sono dei packaging Ma di packaging Poi abbiamo di nuovo Balea Tantissimi Qua abbiamo Balea shampoo Per capelli biondi Guardate i prezzi Sono veramente bassi Questi altri Shampoo Questo cosa Non mi ricordo Ce n'è un altro Con tipo olio Dark Gun Ci sono un sacco di linee Tutte colorate Per riconoscere ovviamente La linea Ah, e qua c'è una maschera Che mi è stata consigliata La maschera rosa Mi hanno detto che è proteica È adatta al metodo E mi hanno detto Che è fantastica Quindi questa mi ispira molto Devo dire Poi ci sono anche altre maschere Tipo questa È una maschera Con olio d'argan Se non erro Un'altra maschera Di un colore meraviglioso Raga Ma quanto è bello Vabbè Magari prossima volta Prendo una di queste Poi come vedete C'è al tanto altro Shampoo Sempre Balea Guardate che bei packaging colorati Io mi faccio sempre influenzare Dai packaging colorati Poi ci sono i classici Fructis Sunsilk Classico Sunsilk Io non uso Sunsilk Credo da vent'anni E c'è anche Guardate qua Ci sono gli air food E come notate C'era anche anguria L'avete visto che c'era anche anguria Poi ci sono un sacco di tinte Tinte su Tinte lato C'è qualsiasi cosa E poi ci sono anche le spume Spume di qualsiasi tipo Guardate qua Un sacco di spume Sia del brand Balea Ma anche di tanti altri brand E guardate qua Ci sono pure i gel E chi spunta lì Uh uh Eccolo Arcemento Finalmente Io e te Ci conosciamo Eccoti qua Sei molto carino dal vivo Poi ci sono dei odoranti Guardate quanti Sono un sacco I odoranti Tanti tanti In stick Spray Classici C'è C'è qualsiasi cosa Vi dico la verità A me serviva il odorante E quasi quasi Vi prendo il mio preferito Che è questo qua Col tappo verde Tè verde Menta Mi piace tantissimo Di Neutro Roberts Però come vedete Ci sono anche gli altri A 1,99 euro Che credo sia un buon prezzo Poi ci sono gli assorbenti Ecco Siamo saliti su Primo piano Assorbenti e dentifrici 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 Assorbenti Raga guardate qua Guardate Ci sono anche Tipo Gli assorbenti lavabili C'è la coppetta Mestruale Cioè mi piace un sacco Sta cosa È molto C'è qualcosa Di Natura Si Anche il brand Gessa Yesa Credo sia Del DM E comunque Organic Ad esempio Lo trovavo spesso La Natura Si C'è anche l'Ines normale Ci sono assorbenti biologici Poi c'è il reparto cibo Di fianco c'è tutto questo reparto cibo Tisane Tè Pucca Famosissimo Non ho provato niente Nessuna tisana di questo brand Ma mi ispira Dei bellissimi packaging E poi c'è anche la parte cereali Ci sono le parti Tipo salse Olio C'è veramente un sacco di roba C'è il reparto dolci Stand Dove Così dal nulla A un certo punto Un cereale e l'altro C'è uno stand Dove E poi c'è la parte Tutto Cura della casa Il Tixan Raga secondo me 6 euro Non è male come prezzo Che dite Comunque c'è di tutto Candigina delicata Come sapete Ultimamente mi piace un sacco Però non c'è un mino bianco Che piace a me È più scuro Il packaging è blu Poi ci sono i tempo I fazzoletti Guardate che strano Resistente lavatrice Raga mi servono A me capita sempre Di lasciarli in tasca Mamma mia Ogni lavatrice Mi trovo un fazzoletto E poi parte Cibo per gli animali Mi sembra Per i bambini Un po' un mix Un po' tutte e due E poi Ritorniamo giù Dalle casse Perché Dovevo pagare le cose che ho preso E guardate cosa trovo Genaic La spazza Genaic Guardate Anche i mini Questi mi ispirano Carini Piccolini E anche quella bianca Che non ho ripreso tanto bene Col manico fucse Mi ispira magari per fare Lo styling Non so come mai Guardate quante spazze Oggi voglio comprare Tutte le spazze No poi Non le ho comprate Però mi ispirano un sacco Se le avete provate Per lo styling Fatemi sapere Anche questa piccolina Mi ispira molto Sempre Genaic Guardate che carina È tonda Molto bella Ecco il mio bottino Da DM Adesso Vado a casa Così vi faccio vedere tutto E tra l'altro Sono vicino a Tigota Quindi fatemi sapere Se volete Anche un video simile A questo Però Su Tigota Eccomi qua Allora Prendo il sacchetto Perché è lì Ecco Cosa ho acquistato oggi Al DM DM È una catena tedesca Quanto pare E come avete notato Ci sono veramente Tantissime cose Me lo aspettavo Più grande In realtà Il Tigota In cui andavo Sempre io Sempre Lì di fianco A Piazza Dante E via Cercardi Mi sembra È molto più grande Ma Ma tipo il triplo Una cassa del No Il triplo Il doppio Sicuramente Ma sì Dai Il doppio E quindi mi aspettavo Non lo so Più skin care Più prodotti ancora Però devo dire Che ci sono un sacco Di brand interessanti Sono diversi I brand Presenti in questa catena Rispetto a quelli Da Tigota Hyper soap Acqua e sapone Ecco io non vi parlo mai Di acqua e sapone Perché non ce l'ho Vicino a me E quindi Ma neanche gli altri Non sono vicino a me Però Sono più Comodi E acqua e sapone Non so se ce ne sia Uno in centro So che ce n'è uno In San Martino Vabbè Non sono comodi Per me Quindi acqua e sapone Lo vedo poco Ci sono andata tipo Soltanto una volta Nella mia vita Quindi vado più da tipo Tigota Ma quando mi capita Che sono in centro Tra l'altro Quindi quando abitavo in centro Ci andavo più spesso Ma scusate Sto divagando Come al solito Vi faccio vedere Cosa ho acquistato Ho acquistato Un pochino di cose Allora Ho speso La bellezza Di 12 euro E 58 Mi anticipo Che io Non faccio Tantissimo shopping Di hair care O di skin care Perché sto cercando Di determinare Tutti i prodotti Che ho a casa Io Vabbè Poi Me lo dico Che su Amazon Ho appena acquistato Due prodotti capelli Però Perché mi è venuta Un po' la fissa Oggi Però in generale Cerco di comprare Veramente il meno possibile Oggi ho comprato Su Amazon 2 Co-Wash Non vedo l'ora Di parlarvene Anzi Di provarli Insieme a voi E poi di parlarvene Però Cerco di comprare Veramente poco E di finire I prodotti che ho Allora Primo prodotto Che vi faccio vedere È finalmente Il prodotto Che ho trovato E che cercavo Ed è L'hard cemento Di Garnier Allora Vabbè Ve ne parlo domani Quindi se Pazientate un attimo Se aspettate Giusto 24 ore Vi beccate Il riccioledì In cui ve ne parlo E vi faccio vedere tutto Vi faccio vedere il risultato Per chi mi chiedesse Fra che prodotti Hai utilizzato Ecco Io non mi dico niente E Cioè Tra l'altro Mi sto dando Delle arie da sola Perché sto dicendo Che oggi Ho dei bei capelli Però Facciamo finta di niente Prodotto che Non trovavo da nessuna parte Qua nel quartiere Come vi ho detto Tante volte Anche su Nelle stories Di instagram È un fissaggio 10 È un gel Veramente hard cemento Cosa può essere Una polpetta No È qualcosa di veramente Fissante Super fissante Super wow Però Vabbè Questo è un haul Quindi non ve ne parlo Più di tanto So solo che è veramente Il prodotto più chiacchierato Io ho sentito parlare ovunque E quindi domani Lo proviamo insieme L'ho trovato L'ho acquistato A 3 euro e 50 Per fortuna non l'ho comprato Su Amazon Perché Veniva 6 È andata bene Poi vabbè Alla fine Però Si può risparmiare Perché non farlo Questa invece È una maschera Una maschera Una maschera Una maschera Che 3,99 Sì Balea Brand Che io sinceramente Non conoscevo Infatti È Soprattutto Cioè no È venduto soltanto Al DM Non credo Sia reperibile In altri negozi È un Marcia È tutto Balea C'è veramente Di tutto Balea Skincare Balea Tutto Tutto Balea Dappertutto E c'erano varie maschere Per capelli Mi avete consigliato Voi questa rosa Dicendo che è proteica È molto valida Va bene La proverò Insieme a voi E me ne farò Vi dirò la mia Vi farò una recensione Sa solo che Tutto sommato Per 300 ml 4 euro Non è male Non è male Assolutamente Secondo me Ci può stare Meno di Meno di 5 euro Per una maschera 300 ml Direi che È economica Quindi Vediamo 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 Poi ho comprato Questo È il mio Deodorante Preferito Ed è Un deodorante Molto fresco Mi piace tantissimo Me lo ruba Sempre Simo Me l'ha rubato Adesso che è Repubblica cieca E quindi È freschissimo Mi piace tantissimo Più di quello neutro Di quello col tappo azzurro Questo è proprio In realtà dovrebbe essere Lime E tè verde Io non ci sento Né lime Né tè verde Boh Sì ci sento Qualcosa di Forse un po' Di lime Ma boh Tè verde Sicuramente no È fantastico È veramente Freschissimo Dà proprio Questa sensazione Di pulito Senza essere Il classico odore Di deodorante In stick Insomma Mi piace tantissimo È piccolo Perché è veramente Piccolo Però ho pagato Quanto 1,99 Credo sia Abbastanza economico Credo di sì Perché l'ho visto In altri posti A 3 euro Quindi credo sia Economico M in generale E l'ho notato Soprattutto per quello Che è un prodotto Che compro Ricompro spesso Poi mi sono fatta fregare O meglio Ho visto che Dalle casse C'erano tutti gli accessori Capelli E io non riesco A non comprare Ogni volta Che sono lì Dalle casse Così Quando c'è coda Guardo un po' gli accessori Per capelli E poi compro qualcosa Questi a me piace Sono tantissimo C'erano in diverse Tipologie C'erano anche azzurre C'erano Boh Di diversi materiali Un po' più rigidi Ho comprato questi Un po' tartarugati Marroni Perché mi piacciono E costavano anche Veramente poco Gli altri costavano 5 euro Non so come mai Questi 2,95 Gli altri 5 euro Ed erano uguali Solo Avevano Boh Erano diversi A livello Cioè uguali A forma Diversi A livello Di materiale Ma non che Cioè Questi sono Boh Mi sembrano Belli resistenti Gli altri erano Semplicemente Opachi E colorati Vabbè Ho comprato questi Io li uso spesso Perché tipo Li utilizzo Per mettere un pochino Più di volume Qua Di andare a contrastare Il piattume Oppure mi piace Proprio per Per fare un Semi raccolto Un po' a caso E mi piacciono Quindi questi erano I miei acquisti So che speravate Qualcosa di più Soccolento Qualcosa di più Interessante Tipo ho comprato Questo Quest'altro Quest'altro No Quattro cose misere Però Raga Ve l'ho detto Devo finire le cose Che ho già E sto cercando Di fare appunto Acquisti mirati Cercando di Rispettare un po' I prodotti Che ho già Che se no Si infuriano E si ingerosiscono Li finisco E poi ne compro altri Io spero di avervi tenuto Compagnia Con questo Pazzerello video Fatemi sapere Se ne volete altri Soprattutto Tipo dati gotà Mi piacerebbe tantissimo Andarci con voi Così vediamo Cosa acquistare Cosa non Vediamo anche un po' I prezzi Ci divertiamo un po' Insieme E se siete arrivati Fino a qua Commentate Vediamo un po' Con cosa potete commentare Con del fuoco Direi di sì Commentate con l'emoji Di un fuoco Vi aspetto anche su Instagram E mi trovate come Frollo Super facile Ciao A presto Musica 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 Grazie a tutti